La cosa figa del freestyle è che non c'è mediazione tra quello che ti esce, quello che hai dentro e quello che poi viene registrato, no? Quindi è pura come cosa, tu sai lì, il segreto secondo me è proprio non pensarci, no? Proprio tu lo fai, ancora prima di capire quello che stai dicendo già l'hai buttato giù e se sei forte lì la cosa esce.